Il segretario nazionale dell'UGL, Polo Capone, ha scelto Pescara tra i 100 piazze italiane coinvolte per ribadire quelle che sono le principali stanze della sigla sindacale riguardo al mondo del lavoro. In vista della legge di bilancio 2025, l'attenzione deve essere puntata su una finanziaria sociale, sulla scorta di quanto il governo Maloni già sta facendo, ma bisogna proseguire nel percorso tracciato. Ci sono le premesse per fare un ulteriore salto in avanti. Che cosa chiediamo ulteriormente? Beh, chiediamo che rimanga il taglio del cuneo fiscale che ha aiutato e contribuito a far crescere i consumi. Chiediamo che vengano sostenute le imprese che assumono perché questo ha portato a maggiore occupazione. Chiediamo ancora risorse per rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Chiediamo che tutte le fasce più fragili della società vengano assistite nella maniera migliore. E poi la sanità e poi le infrastrutture. Insomma, dovrebbe essere una finanziaria, secondo noi, che punta al mantenimento dello stato sociale come ce l'abbiamo e poi investa per il rilancio del paese. Il rapporto con le altre parti sociali storicamente non è stato quasi sempre idilliaco. In una fase storica come questa che stiamo vivendo qui in Italia, da questo punto di vista, c'è possibilità di collaborazione o almeno di affrontare determinate questioni insieme? In tema, per esempio, di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, la CIS la si è smarcata da CGL e da Will che hanno un approccio molto ideologico. Ecco, affrontano i problemi di oggi, problemi nuovi, un po' guardando nello specchietto retrovisore. La CIS su questo invece ha dimostrato di avere una capacità di proiezione verso un futuro che è molto interessante. L'importante è arrivare a una situazione di equilibrio che porti comunque beneficio ai lavoratori, che porti beneficio alle parti più fragili della nostra società e che porti beneficio, che ne dica la CGL, alle imprese. Senza le imprese non c'è lavoro e senza lavoro non ci sono lavoratori.